Musica Alpiola nel nuovo campionato di Serie B sarà contro l'Empoli, cliente abituale della cadetteria. I toscani sono reduci dal pareggio ottenuto al Castellani contro la Regina. 1-1 il risultato finale con Rete degli Empolesi, firmata Manuel Pucciarelli. Partiamo dal manico, ossia dall'allenatore Maurizio Sarri, tecnico navigato, che conosce molto bene la Serie B, avendo già allenato Pescara, Arezzo, Avellino e Grosseto. Il modulo adottato è il 4-4-1-1, che può diventare spesso 4-2-3-1. L'età media della squadra è fra le più basse della categoria, con 24,3 anni. Non mancano le guide esperte come Francesco Tavano davanti e Pratali in difesa, entrambi 33 anni e con una buona esperienza anche in sede. AVS Media Della Portiere d'Ossena, una linea 4 che vede Vasco Regini e il francese Vincenne Laurini sulle corsie laterali. In mezzo l'esperienza di Pratali e la freschezza di Daniel Mori, nazionale Under 21, con valide alternative come... AVS Media Della Nell'esordio contro la Regina, un altro nazionale Under 21 è Riccardo Saponara, rivelazione dello scorso torneo, attaccante alla destra, agile e veloce dal dribbling facile. Sull'autoposto Pucciarelli, mentre in mezzo la sostanza dell'esperto Davide Moro... AVS Media Della Il ruolo di Mina Vagante guasta feste fra le linee di centrocampo e attacco appartiene a Flavio Lazzari. Davanti c'è Claudio Coralli, che però si è fatto male in Coppa Italia, in rampa di lancio Tavano e il giovane Sascha Cori. Davanti c'è Claudio Cori